Maxi operazione della polizia sequestrati 4 kg di stupefacenti e 85 mila euro. Ieri sera gli agenti del commissariato San Giovanni Barra durante un servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti sono intervenuti presso l'abitazione di una donna in via seconda traversa Fumaroli dove hanno rinvenuto 58 buste di cellofan contenente circa 3,7 kg di marihuana, due stecche di circa 34 grammi di hashish, sei bilancini di precisione, una bilancia digitale da cucina e diverso materiale per il confezionamento della droga, oltre a 11.470 euro in contanti. Inoltre, nell'appartamento dell'ex compagno della donna, posto al secondo piano dello stesso stabile, sono stati rinvenuti altri 75.880 euro. La donna, 25enne napoletana, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, mentre l'ex compagno napoletano di 31 anni è stato denunciato per il medesimo reato.